Isola pedonale in apertura della seconda parte perché è stata accolta la sospensiva di un gruppo di commercianti contro l'area pedonale. Già da domani potrebbero quindi essere rimosse le transenne che delimitavano l'isola di Cairoli. Trischitta cerca la sponda sull'assessore Panarello e chiede invece la testa dell'assessore Cacciola e del presidente della quarta circoscrizione Palano Quero che risponde ancora una volta e il TAR decide sulla città di Messina. Il TAR di Catania ha accolto la richiesta di sospensiva dell'isola pedonale di Cairoli istituita dalla Giunta all'inizio del 2014 bocciata dai consiglieri comunali lo scorso agosto e prorogata a settembre. La sospensiva era stata richiesta da un gruppo di cinque commercianti difesi dagli avvocati Andrea Vadellaferdi, Nandorizzo e Pippo Trischitta. Proprio quest'ultimo anche nelle veste di consigliere comunale si era da sempre opposto all'attuale conformazione dell'isola e più volte aveva chiesto all'amministrazione di fare un passo indietro. Passo indietro che non è mai arrivato anche perché la lotta per mantenere l'attuale isola di Cairoli aveva persino portato oltre 2000 persone a scendere in piazza per difenderla. Ma per il TAR va rispettato il piano urbano del traffico e di giudici che comunque si pronunceranno definitivamente sulla questione il prossimo 10 giugno hanno inoltre ritenuto infondato il ricorso incidentale proposto dall'Associazione Millevetrine. Già da domani dunque potrebbero essere rimosse le transenne che delimitano l'area di Cairoli anche perché non è affatto scontato che il comune ricorra al CGA. Intanto è proprio Pippo Trischitta che provocatoriamente chiede la testa dell'assessore Cacciola e di Francesco Palano Quero presidente pro isola della quarta circoscrizione. E Trischitta intanto cerca anche la sponda sull'assessore di Panarello per sedersi attorno a un tavolo e parlare di un'altra isola pedonale. Amareggiato invece Francesco Palano Quero ancora una volta il TAR decide per e sulla città di Messina. Sentiamo adesso il piccato intervento del consigliere comunale Giuseppe Trischitta in merito alla decisione del TAR sull'isola pedonale che ribadisce quanto detto già in altre occasioni chiede la testa dell'assessore Cacciola e del presidente della quarta circoscrizione Palano Quero e chiede appunto adesso la sponda all'assessore Panarello. Il TAR dice che l'isola pedonale deve essere fatta in questo momento e quella prevista dal consiglio comunale, cosa che era scontata, che abbiamo detto più volte. e nonostante questo noi abbiamo tentato, io personalmente, anche in Pucinotta, di avere un confronto con l'amministrazione, di evitare questa sconfitta per tutti perché ha deciso in giudice una questione che potevamo decidere benissimo i consiglieri comunali insieme all'amministrazione. Adesso noi abbiamo avuto il risultato, siamo pronti ad avere un confronto. In questo momento il consiglio comunale è pronto a un confronto ed è istituire un'isola pedonale per la città perché il consiglio non è stato mai contro la possibilità di avere un'isola pedonale. Voleva un'isola pedonale più grande ma c'è stato impedito da Cacciola e Puero che volevano a tutti i costi inserire quel tratto di via De Mille. Adesso c'è una delibera del 27 febbraio, una delibera di indirizzo che consente all'amministrazione, se tu il TAR non potrebbe dire niente, di sperimentare per un periodo l'isola pedonale da Piazza Cairole fino al Viale San Martino fino via alla Santa Cecilia e discutere il consiglio comunale per dare dei servizi necessari affinché il grudimento sia assoluto. Fai il molestando e noi insistiamo ancora nella nostra proposta che sia inserita anche la Lambra e avere un'isola che parte dalla Tocana fino al Viale San Martino. Io penso che dopo questo insuccesso è logico che io se fossi a posto di Puero e di Cacciola mi dimetterei, siccome loro non hanno il coraggio di farlo, non hanno la dignità allora io chiedo io ufficialmente a Cacciola e a Puero di dimettersi in ogni caso che Cacciola abbia la sensibilità perché i responsabili di tutto questo sono stati loro due e non hanno avuto mai un confronto di rimettere la delega alla viabilità del sindaco e darla a un altro assessore a cui certamente si può dare. E non si è fatto attendere l'intervento del Presidente della Quarta Circoscrizione Francesco Palano Quero sull'ordinanza di sospensione del provvedimento istitutivo dell'area pedonale Cairoli che la riduce di fatto alla sola piazza. Tale provvedimento giudiziario non può che essere letto come una sconfitta per tutta la classe politica cittadina che per l'ennesima volta non riesce a trovare soluzioni condivise e lascia decidere ad un tribunale le sorti della nostra città ha detto Francesco Palano Quero è certamente un passo indietro nel cammino verso la riapprovazione da parte dei cittadini degli spazi di socializzazione un'occasione sprecata per provare a rilanciare il commercio un'area pedonale che certamente poteva e doveva essere migliorata ha detto Quero ma non limitata nelle dimensioni così come sarà ancora più adesso che ci avviciniamo alle feste natalizie ad ogni modo prendiamo atto che si dovrà ripartire da Piazza Cairoli investendo risorse sulla stessa ribadendo inoltre la richiesta all'amministrazione dell'ampliamento dell'area pedonale del Duomo e con l'auspicio infine conclude Quero che il dialogo tra tutte le forze politiche, economiche e sociali riparta e produca nuove soluzioni più condivise e opportune per l'area pedonale commerciale Cairoli più in linea con il sentire comune Spostiamoci al Tribunale dove oggi alle 13 c'è una nuova udienza del secondo troncone di indagine dell'inchiesta sul pianeta formazione ieri la procura ha chiesto il rinvio a giudizio per tutti e 24 gli imputati e le 8 tra società identi coinvolti in questa seconda inchiesta chiederlo il pool di magistrati coordinati dall'aggiunto Sebastiano Ardita che hanno lavorato all'inchiesta che ha scoperchiato la gestione del sistema del sistema formazione a Messina e Provincia Oggi nuova udienza del processo sul secondo troncone in inchiesta del pianeta formazione il pool di magistrati coordinati dall'aggiunto Sebastiano Ardita ha chiesto rinvio a giudizio per tutti e 24 gli imputati e le 8 tra società identi coinvolti e lo ha fatto con una ringa breve coincisa il sostituto procuratore Liliana Todara ha chiesto infatti al giudice per l'udienza preliminare Monica Marino che l'onorevole Franco Antonio Genovese il cognato Franco Rinaldo e gli altri 22 indicati oltre alle 8 società siano sottoposti a processo del pool di PM che si è occupato delle indagini ne fanno parte oltre all'aggiunto Sebastiano Ardita che lo coordina anche Fabrizio Monaco Liliana Todara e Antonio Carchietti occorrerà attendere ancora qualche giorno per sapere se il gruppo marino rinvierà tutti a giudizio o se proscioglierà qualcuno ieri dopo la richiesta di rinvio a giudizio e la procura si sono registrati gli interventi e le parti civili e dei difensori alle 13 di oggi tutti gli altri a seguire quindi la decisione si accoglie alla richiesta del pool di magistrati che ha chiesto il giudizio per tutti gli imputati persone, società e denti comprese o decidere diversamente Una collaboratrice domestica di lunga data in casa di un professionista ne aveva conquistato la fiducia riuscendo però così ad arraffare nel tempo denaro e preziosi la vittima una volta accortesi dei numerosi ammanchi si è rivolta al commissariato di polizia di Barcellona e gli agenti sono riusciti a smascherare la colfe e a ricostruire il modus agenti della stessa i controlli incrociati sui monili che compro oro denunciano mensilmente hanno permesso infatti di rintracciare alcuni dei preziosi scomparsi da casa del professionista erano stati rimenduti dal marito della donna che aveva provveduto a liberarsi degli oggetti e a ricavarne quanto più possibile per un anello ed una collana l'uomo era riuscito a racimolare 730 euro la donna è stata denunciata per furto continuato il marito invece per ricettazione spostiamoci adesso a Tormina dove il 22 ottobre scorso aveva suscitato clamore la notizia di un incendio e danni dei locali attigui al pronto soccorso dell'ospedale della Perla dell'Oionio un ignoto piromane aveva dato fuoco ad alcuni cartoni creando una situazione di potenziale pericolo che per fortuna però non aveva avuto tragiche conseguenze le indagini avviate dai carabinieri Tormina hanno consentito di individuare l'autore di quel pericoloso gesto si tratta di un uomo di 61 anni ospite di una vicina casa di accoglienza che quella notte girava nei locali del nosocomio senza avere una meta precisa le immagini e le testimonianze riferiscono di un allontanamento repentino dai locali in cui è avvenuto l'incendio poi le fiamme sono state domate dal personale sanitario già noto per un viso di analogo e per altri reati precedenti l'uomo si è quindi ripetuto e non se ne conoscono al momento le ragioni certarne le responsabilità e quindi anche le motivazioni di questi gesti il prefetto di Messina torna a bacchettare l'amministrazione a Corintia infatti fatto per venire al sindaco una lettera nella quale esprime disappunto in merito alla mancata concessione di piazza Duomo alla Croce Rossa italiana in occasione della giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada che si celebrerà il prossimo 16 novembre nell'occasione il comitato provinciale della Croce Rossa infatti aderendo all'invito del comitato centrale organizzeranno nei comuni che ospitano le sedi operative una serie di iniziative volte a sensibilizzare sul tema dei rischi derivanti da un non corretto stile di vita e a promuovere comportamenti corretti dai parti di tutti gli utenti della strada gli uffici del comune di Messina interessati dalla presidente del comitato provinciale alla Croce Rossa hanno però negato questa concessione citando il vigente regolamento COSAP che non consentirebbe più di tre utilizzi ogni anno al medesimo richiedente è evidente ha scritto il prefetto Trotta come una rigide burocratica interpretazione della norma regolamentare di fatto impedisca lo svolgimento di una manifestazione di alto significato sociale colloca la città di Messina fuori da un evento di portata planetaria questa rigida interpretazione della norma regolamentare appare peraltro stridente in stridente contrasto con la sensibilità dimostrata sul tema proprio dall'amministrazione comunale il cui corpo di polizia municipale sarà premiato in questi giorni a Milano per il migliore progetto relativo alla sicurezza urbana e adesso ci fermiamo per la pubblicità torniamo tra poco grazie a tutti i nostri spettatori